Allora, la relazione che vi propongo è una relazione su lo stato della coscienza di classe dei lavoratori e delle lavoratrici al tempo della crisi. Non è una cosa semplicissima, quindi cercherò di essere il più chiaro possibile. Partiamo da un presupposto che credo che sia condiviso da tutti, che oggi siamo di fronte forse a un crollo verticale di quella che è la coscienza di classe nel nostro paese. E questo crollo ha tre elementi che interagiscono in modo dialettico e ne fanno un composto piuttosto pericoloso. Allora, innanzitutto, quindi toccherò rispetto alla coscienza di classe, tre elementi. La crisi della prospettiva socialista, cioè la crisi dell'idea, della praticabilità di una società alternativa al capitalismo. Sconfitta storica del movimento operaio e la cancellazione di tutte quelle che sono state le conquiste del movimento operaio e il dilagare dell'egemonia dell'ideologia neoliberista in larghi strati dei lavoratori. Poi successivamente cercherò di sottolineare l'emergere di nuove identità che è il prodotto della crisi dell'identità di classe, quella nazionale e quella religiosa. infine, alcuni punti di resistenza dove ancora c'è una consapevolezza e una coscienza di classe presente in alcuni importanti settori di classe. Classe operaia, ma non solo, anche classe lavoratrice. Parto dalla prima questione perché questo è un elemento importantissimo che ha anche un'incidenza sia sui movimenti sociali in generale che sui livelli di coscienza dei militanti e degli attivisti. Nel novecento tutto il movimento operaio, sia la componente riformista che la componente rivoluzionaria, ma anche tutti i movimenti sociali agivano dentro una grande prospettiva che era una prospettiva di trasformazione della società. Quindi era la prospettiva del socialismo, cioè di una società alternativa al capitalismo. Quindi sia nelle versioni riformiste che nella versione rivoluzionaria comunque l'agire di milioni di lavoratori e lavoratrici era sotto questa stella polare, sotto questo ideale. E questo aveva un'influenza di massa. La possibilità, quando si lottava per il salario, si lottava per la riduzione di lavoro, non si lottava soltanto perché bisognava migliorare la condizione materiale, ma si lottava perché oltre a migliorare la condizione materiale si era parte di un progetto storico, di un progetto di cambiamento della società. Tutto questo al tempo della crisi, in questa fase, soprattutto nel nostro paese, soprattutto in Italia, non c'è più. C'è una crisi profonda di un'alternativa di società, di un'alternativa al capitalismo. I movimenti sociali sono privi di questo spazio politico che in un certo senso ha motivato milioni di lavoratori nel Novecento e questo pone con urgenza e con forza anche la necessità della costruzione di una forza politica, di una sinistra di classe che tenga aperto lo spazio politico di una prospettiva di alternativa. Questa cosa è fondamentale anche per gli stessi movimenti sociali. I movimenti sociali, se non hanno uno spazio politico dove agire, spesso, come succede in tantissime lotte, in tantissime vertenze, si agisce perché si sta con l'acqua alla gola, si fanno vertenze durissime ma poi quando c'è o la sconfitta o il riflusso o entrambi le cose, quelle lotte scivolano come acqua sul marmo, cioè non sedimentano niente, non sedimentano nuove avanguardie, non sedimentano coscienza, non sedimentano attivisti e questo credo che sia in stretto legame sia con l'assenza di una forza politica organizzata sia con l'assenza di una prospettiva di alternativa. Quindi l'urgenza di costruire una forza di sinistra, di classe nel nostro paese è un'urgenza che ha anche una ripercussione sulle caratteristiche dei movimenti sociali, sulle caratteristiche e sulla necessità della ripresa della lotta di classe. La coscienza di classe è un processo complesso e dialettico, un combinato tra condizione sociale e costruzione di un'identità individuale e collettiva. Cioè è sì un processo esterno nel senso di coscienza che si acquisisce attraverso l'attivismo e la militanza in organizzazioni politiche e in organizzazioni sindacali, ma nello stesso tempo è anche un processo materiale. Mi spiego. Le conquiste storiche del movimento operaio che sono state soprattutto dopo il secondo dopoguerra, dalla riduzione dell'orario di lavoro alla conquista dello statuto dei lavoratori, la scala mobile, il contratto collettivo nazionale, il sistema pensionistico, sono state conquiste che hanno migliorato di parecchio la condizione della classe lavoratrice, ma nello stesso tempo quelle conquiste sono stato un elemento materiale dove si è costruita una coscienza di classe, cioè dove l'agire collettivo portava a dei risultati, era vincente. Le classi dominanti hanno agito esattamente su questi tre livelli, hanno agito sul livello materiale, quindi provando ad attaccare frontalmente tutte le conquiste del movimento operaio, hanno agito sul piano ideologico e poi ci arrivo, proponendo non solo una teoria economica, quello neoliberista, ma anche un'ideologia che è sempre appunto quella del neoliberismo e nello stesso tempo hanno agito anche sulle organizzazioni politiche e sindacali che negli anni hanno subito un processo di trasformazione e di cambiamento del proprio profilo politico identitario che ha fatto sì che alcune di queste organizzazioni hanno totalmente abbandonato qualsiasi riferimento di classe. Penso al ruolo della CGL, penso al ruolo del Partito Comunista Italiano. Quando quelle organizzazioni, in modo particolare il Partito Comunista ha fatto la svolta che noi sappiamo che anche negli anni passati non è mai stata una forza comunista, ma comunque quella svolta sul terreno della coscienza ha spostato settori rilevanti di lavoratori su posizioni ideologiche, diciamo, aglassiste. La classe dominante poi a un certo punto con la svolta neoliberista ha operato, come dicevo prima, sul livello materiale, attaccando profondamente tutta una serie di conquiste e anche sul terreno ideologico. Il neoliberismo parte dal presupposto che al centro c'è l'individuo. Da questo punto di vista ho saccheggiato, diciamo così, l'interessante saggio di Diego Giacchetti che descrive molto bene nel suo saggio sia la teoria neoliberista, quindi sto facendo uno spot a Diego, sia gli aspetti ideologici che il neoliberismo riesce attraverso i grandi mezzi di comunicazione, attraverso i sistemi educativi, scuola, università, attraverso gli intellettuali, attraverso gli economisti, riesce a influenzare pesantemente milioni di lavoratori e lavoratrici per cui il concetto di classe, il concetto di collettività, il concetto di agire collettivo viene messo totalmente in crisi, dietro, diciamo così, invece il concetto dell'ideologia dell'individuo per cui le classi scompaiono, i soggetti collettivi scompaiono e se un lavoratore perde il proprio posto di lavoro, se una donna viene licenziata perché ha la maternità, perché un giovane non trova il posto di lavoro la responsabilità non è della società, non è della crisi, non è del capitalismo, la responsabilità è semplicemente dell'individuo che non è stato in grado di, diciamo così, trovare le risorse per potersi affermare nella società. Allora questa roba qua è chiaro che distrugge a tutti quelli che possono essere i legami solidaristici, tutti quelli che possono essere i meccanismi di solidarietà. E dicevo, non è solo una questione di coscienza che può, diciamo, essere trasmessa da forze politiche, forze sociali e sindacali, ma anche una condizione materiale. Quando vengono, diciamo così, cancellate tutta una serie di conquiste come il contratto collettivo nazionale, lo statuto dei lavoratori, il dilagare della precarietà, la fine del sistema pensionistico, quindi meccanismi di solidarietà tra generazioni, quello che abbiamo è un quadro di frantumazione del proletariato che, diciamo così, fatica poi a riconoscersi in quanto soggetto collettivo, in quanto classe. E, diciamo, in un contesto di frantumazione e di disgregazione, penso per esempio a tantissime aziende che hanno 4, 5, 6 contratti diversi, contratti collettivi, penso al fatto che poi ci sono anche giovani precari. Questa configurazione, se volete, sociologica, fa sì che in assenza dell'azione collettiva di un sindacato, in assenza di un partito di classe, questo provoca, diciamo così, le spinte più irrazionali che possono venire fuori dall'animo umano. E quindi, per esempio, anche dalle esperienze che facciamo nei nostri posti di lavoro, avvengono delle cose che, rispetto a meccanismi di solidarietà, possono apparire quasi meccanismi sadici, insomma, per cui io sto bene nel vedere che il collega ha un contratto peggiore del mio, anche se poi quello, cioè non è che mi toglie il pane se riesce a ottenere quella conquista, però ho questa sensazione che questo benessere è strettamente legato al fatto che gli altri stanno un po' peggio di me. E quindi questo mi crea quasi un benessere sadico, insomma. Quindi, diciamo, in un contesto in cui la coscienza di classe è ai minimi storici e secondo me non è nemmeno paragonabile a quello che è successo negli anni venti con l'infascismo, parte, diciamo, il contesto completamente diverso. Però, diciamo, il fascismo è stato una creazione della classe dominante italiana per paura della rivoluzione, per paura che, appunto, anche in Italia ci fosse un processo rivoluzionario. Per cui, diciamo, la classe operaria è stata sconfitta, è stata battuta, ma non è che non c'era una coscienza di classe. Oggi, probabilmente, siamo in un punto veramente critico, insomma, della coscienza di classe. E in questo punto così critico emergono altre identità. Emergono identità che sono, diciamo così, l'antitesi di quella di classe. Cioè, emergono identità nazionaliste, razziste, religiose, in tante aree del mondo, per esempio in Medio Oriente, prevalgono le identità religiose sull'identità di classe. O, per esempio, l'ex Unione Sovietica prevale l'identità nazionale piuttosto che l'identità di classe. Quindi, diciamo, la crisi del capitalismo, l'austerity, che spinge in giù tutte le classi popolari, in modo particolare la classe lavoratrice, di per sé non produce risposte di tipo progressista. se non c'è una soggettività politica e sociale che su questo cerca di fare leva. E guardate, da noi in Italia il pericolo di esplosioni sociali di tipo razzista sono possibilità concrete. Possibilità concrete. La situazione di Roma, che è quella che conosco meglio, negli ultimi periodi ci sono segnali molto inquietanti in alcuni quartieri popolari con una grande composizione di classe popolare, appunto, dove appunto la crisi che spinge in giù grossi settori popolari spinge questi settori nella violenza contro i diversi. Su questo, se volete, c'è anche diciamo oltre a quello che dicevo prima un'assenza di una risposta di classe di un soggetto eccetera eccetera c'è anche se volete un meccanismo psicosociale che coinvolge proprio i settori popolari cioè io costruisco un'identità diversa dall'immigrato perché ho paura che possa finire esattamente nella condizione in cui sta l'immigrato per cui io devo costruire una differenza e una barriera tra me e l'immigrato perché questo mi garantisce diciamo così un'illusione un'incantesima insomma che è quella di stare un po' meglio di quello che è disperato insomma e quindi dicevo che c'è il rischio concreto che ci possono essere delle esplosioni sociali con tratti razzisti torpignattara corcolle insomma l'avete visto sui giornali che sono dei processi che non possono essere etichettati to cure come fenomeni razzisti ma che possono avere uno sbocco che può andare può andare in quella in quella direzione e anche il modo in cui alcune organizzazioni politiche stanno un po' modificando l'impianto politico ideologico ci deve far riflettere parlo della Lega della Lega Nord che sta facendo un processo di trasformazione politica che da partito antimeridionale sta diventando un partito anti-immigrati cercando di riproporre il modello del fronte nazionale anche nel nostro paese tant'è che ha provato questa è una parentesi ha provato e sta provando a fare anche iniziative in alleanza con Forza Nuova e con Casa Pound proprio per diciamo costruire il nostro paese una forza simile a quella delle penne in Francia questa è una parentesi per dare il senso però che lo stato d'animo dei lavoratori e delle lavoratrici del nostro paese è uno stato d'animo molto contraddittorio che se lo dovessi diciamo così definire con uno slogan direi che è diciamo lo stato d'animo medio dei lavoratori e delle lavoratrici del nostro paese è quella di una rabbia senza speranza cioè di un'incazzatura diffusa ma che non ha diciamo così nessun tipo di sbocco allora se questo è il quadro noi è chiaro che dobbiamo diciamo fare leva su quelli che sono i settori più avanzati di classe e i settori dove ancora esiste una capacità di mobilitazione e una capacità di lotta noi l'abbiamo verificato diversi di noi nel congresso della CGL che ci sono stati in alcune importanti fabbriche in alcuni importanti settori l'affermazione diciamo così del documento alternativo ma non solo ma anche nella capacità di lotta e di iniziative di alcuni settori che diciamo così ci fa ben sperare che quei settori parlo della Same parlo della Piaggio parlo di alcuni settori degli insegnanti parlo dei lavoratori della logistica cioè a macchia di leopardo qua e là ci sono settori di lavoratori che ancora sono in grado di rispondere attraverso un'azione collettiva attraverso scioperi attraverso mobilitazioni e che quindi hanno la possibilità di catalizzare di polarizzare diciamo così tutta quella rabbia che la crisi la spinta verso il basso la spinta verso condizioni di povertà sta diciamo coinvolgendo settori importanti di lavoratori e di giovani per non parlare poi dei pensionati dove moltissimi vivono in condizioni di povertà quindi diciamo da questo punto di vista è molto importante la ripresa della lotta e della mobilitazione dirò delle banalità il fatto che appunto è necessario la ripresa della lotta e della mobilitazione sociale però in questo contesto diciamo così chi inizia prima può trascinare dietro di sé anche altri settori che oscillano un po' come un pendolo e che possono andare o dietro una ripresa dell'iniziativa di classe o dietro l'iniziativa di settori reazionari se non apertamente fascisti quindi la ripresa diciamo così della lotta è importante per questo motivo ma è importante anche perché concretamente contrasta quella che è l'ideologia dominante cioè contrasta l'individualismo contrasta l'egoismo contrasta tutto ciò che mette al centro l'ideologia dominante perché è nella lotta che si ricostruisce meccanismi di solidarietà legami in quanto soggetti collettivi e nella lotta che si riproducono anche diciamo un senso di appartenenza e di comunità è chiaro che questo fa il paio con quello che è la crisi del sindacato e l'assenza di di una sinistra di classe che ha che abbia diciamo così un'influenza di massa io su questo sono abbastanza categorico nel senso che saranno importanti le mobilitazioni che ci saranno nell'autunno però sono convinto che la ripresa del conflitto e delle lotte non sarà una cosa che verrà costruita dalle organizzazioni dalle organizzazioni sindacali conflittuali che poi quando diciamo organizzazioni sindacali conflittuali diciamo l'arcipelago del sindacalismo di base e la corrente di sinistra della CGL io penso più invece lo cito spesso a fenomeni come quello che è successo a Genova l'anno scorso con gli atto ferro-travvieri cioè penso più a forme spontanee di esplosioni di lotta che a lotte che vengono preparate e organizzate dalle organizzazioni sindacali tradizionali perché penso che la credibilità e la sfiducia di altri settori di lavoratori nei confronti delle organizzazioni sindacali che coinvolge anche le organizzazioni più radicali che coinvolge anche quelle organizzazioni diciamo così non saranno quelle che daranno il via alla ripresa del conflitto poi è chiaro che nell'agenda di cui discuteremo anche in questo seminario noi parteciperemo a tutte le mobilitazioni che ci sono parteciperemo alla mobilitazione del 10 di ottobre parteciperemo alla mobilitazione della CGL del CGL insomma non ho capito bene se è 18 o 25 molto probabilmente il 25 parteciperemo allo sciopero sociale del 14 di novembre insomma parteciperemo a tutte le mobilitazioni e sicuramente saranno utili per diciamo così trasmettere un senso di fiducia e un senso di di maggiore slancio nei settori di avanguardia ma credo che invece per quanto riguarda la riapertura di un nuovo ciclo di lotte appunto secondo me le avremo più nelle caratteristiche di quelle che appunto sono state le lotte degli autoferro di Genova anche perché questo è un tratto che ha contraddistinto un po' i movimenti sociali e le mobilitazioni sociali che ci sono state in giro per il mondo vi ricordo che in Turchia c'è stato un'ondata di lotte diciamo così di scontri duri apparentemente per questioni irrilevanti che era un parco in Brasile pure c'è stata un'altra mobilitazione straordinaria perché avevano aumentato il biglietto dell'autobus che appunto apparentemente sono eventi scatenanti e che poi hanno diciamo così la capacità di polarizzare il disagio e il dissenso che esiste che esiste nella società quindi c'è diciamo così la necessità di ricostruire costruire una nuova coscienza di classe e questa coscienza di classe chiaramente deve essere all'altezza di quelle che sono le contraddizioni che oggi il capitalismo crea e quindi una coscienza di classe deve essere anche una coscienza ecologista diciamo così cioè strettamente legata a quello che succede rispetto ai cambiamenti climatici rispetto alla crisi ambientale quindi credo che ricostruire una coscienza una moderna coscienza di classe oggi deve fare i conti con quella che è la crisi ecologica che attraversa l'intero pianeta e nello stesso tempo anche se chiaramente non lo voglio citare non lo voglio approfondire però credo che una moderna coscienza di classe non può che essere anche diciamo così femminista e diciamo includere la differenza di genere perché credo che diciamo ricostruire appunto una moderna coscienza di classe deve sintetizzare non so se il termine giusto ma deve abbracciare anche quelle che sono diciamo le contraddizioni ambientali e la contraddizione di genere e da questo punto di vista il ruolo del partito o di un soggetto rivoluzionario poi lo possiamo chiamare partito movimento come ci pare però diciamo parliamo di un soggetto organizzato che ha un progetto di trasformazione radicale della società da questo punto di vista la questione del soggetto rimane il punto diciamo così principale del nostro del nostro agire insomma pensiamo che senza la soggettività politica senza uno strumento politico qualsiasi ipotesi di trasformazione rivoluzionaria rischia diciamo così il fallimento e quindi diciamo la nostra la nostra corrente lavora a questo obiettivo a questo obiettivo storico insomma e quindi diciamo anche che il ruolo di un soggetto politico è indispensabile sia nella ricostruzione di una moderna coscienza di classe sia nella ricostruzione di movimenti di massa e nella ripresa del conflitto di classe grazie 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 grazie